Sì, 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 ma non... Allora, possiamo cominciare? Sì, sì, è bello. Sono scesi tutti quanti, ci sono... Allora, un saluto brevissimo, poi lascio la parola ai nostri due amici che terranno questo interessantissimo seminario. Saluto le persone, alcuni di voi, anzi molti di voi già ci conoscono, hanno partecipato ad altre attività e vedo anche per molti nuovi e questo ci fa piacere perché vogliamo cercare sempre di più di allargare la conoscenza del nostro centro, di far partecipare le persone a quelle che sono le attività del nostro centro che come avete visto, per chi non conosce la struttura, vuole essere un centro che vuole superare certe barriere e che in genere ci sono tra le varie discipline. Quindi c'è lo studio di psicoterapia, c'è la libreria, diciamo, normalmente sono attività... Se parano... Già fanno chiassi... Siamo distratti. Già, ecco. Concentrati su loro... Sì, è una cosa molto dinamica in interacchia. Ma non ci interessa quello che stagiamo. Non ci interessa. Comunque, diciamo, normalmente ci sono ambiti diversi, c'è lo studio di psicoterapia, c'è la libreria, ci sono i centri dove si fanno attività di formazione, oppure laboratori di sviluppo personale, oppure attività culturali o divulgative. Noi vorremmo... L'idea del nostro centro è quello di provare a unire queste diverse esperienze e fare dei percorsi che si intrecciano. Oggi è un'altra attività che apriamo e che inauguriamo oggi, è un'attività di tipo, allo stesso tempo, divulgativo, culturale, però anche di divertimento e poi anche di conoscenza di sé, perché la musica, adesso ce lo diranno i nostri lustri, veratori, è un'occasione appunto di conoscenza di sé e anche di scoperta di cose che noi spesso non sappiamo di conoscere. Per questo anche il nome Maierdica, abbiamo scelto per questo nostro centro, che come sapete era un'arte che praticava Socrate e che era quella che aiutava le persone a scoprire ciò che non sapevano di avere, di possedere e di conoscere. E spesso non ascoltiamo la musica perché ci intratiene, ci dà un senso di benessere, a volte ci fa piangere, ci commuove, però poiché ha un impatto molto forte sul cervello e sulla nostra mente, capire un pochino meglio che cosa succede dentro di noi ci sembra potesse essere una cosa utile e divertente. Quindi io vi saluto, non mi sono presentato, sono Maurizio Falconer, che non mi conosce, psichiatra, psicoterapeuta, diciamo, il grande onore, il grande onore di dirigere questo centro e di coordinare un gruppo magnifico di persone che collaborano con noi. Vi saluto e ascoltiamo, cominciamo. Ah, ultima cosa, domani abbiamo un'altra attività, non so se l'avete visto, domani pomeriggio alle 16, ci sarà un'attività di gruppo che si chiama Conosci te stesso e gioca bene le tue carte, che è un gioco di carte sulla personalità. Abbiamo già fatto un primo incontro che è piaciuto molto, quindi faremo un secondo round. Chi è interessato magari può chiedere informazioni a me o agli altri colleghi, vi spiegheremo di che cosa consiste. Domani alle 16. Buonasera, benvenuti a tutti, io ringrazio tutto il dottor Consiglio che mi ha tirato dentro questa cosa, perché altrimenti mi sembra una capra in un senso musicale. In realtà questa cosa mi ha permesso di approfondire delle cose molto molto interessanti. Come vedete dal titolo, la nostra idea, insomma la sua idea poi è diventata nostra, era quella di far sì che l'ascolto della musica diventasse, diventasse, un'esperienza, un'esperienza, troppa gente stasera, un'esperienza. Sì, diventasse un'esperienza consapevole, in che senso? Nel senso che il nostro scopo è quello di poter insegnare, perché la nostra idea è quella di proporre poi degli appuntamenti regolari, sento un rumore, ma va bene, intanto che parli, insomma, io muovo un po'. È quella di poter insegnare all'ascoltatore di farsi parte integrante dell'esperienza dell'ascolto. Questo che cosa significa? Significa essere consapevoli non soltanto, diciamo, della musica in sé, quanto dei dati, diciamo, sia oggettivi che soggettivi dell'evento musicale. Oggettivi, cioè timbro, armonia, melodia, volume dei suoni, e questo è quello che in qualche modo, diciamo, è l'attività di cui si occuperà il dottor Consiglio in quanto un musicologo. E dei dati soggettivi, quelli più legati alle nostre sensazioni emotive e cognitive, quindi pensieri, emozioni, sensazioni proprio fisiche, che le nostre emozioni, diciamo, determinano. E questo è quello che in qualche modo cercherò, diciamo, di definire io, almeno con le mie conoscenze. Ascolto consapevole, quindi, significa poter riflettere sia sugli aspetti frumentali, proprio, del suono, che sugli aspetti dell'esperienza emotiva e cognitiva che questo determina. Senti, Diana, fai una cosa, intanto che parlo, parlo un attimo io. Proviamo a muovere questo filo bianco. Che lo scusa, ma... No, ci sono problemi con sta cassa, purtroppo. E dovresti fare una cosa, in via, perché, muovendoci con la sedia, vai sopra il filo e muovendoci, succede poi l'effettorio plano. Se lo porti davanti, davanti alla sedia. Sì. Ok. E allora, sì, il discorso, cioè l'idea di base... Metto a centro, perché sennò ho seduto là. L'idea di base, diciamo, sulla quale ci muoviamo per questo incontro è un'idea, diciamo, sperimentale, non è sperimentale. Perché, in qualche modo, questo incontro è strutturato in maniera da far partecipare tutti quanti voi, tutti quanti, in maniera attiva. Perché sappiamo bene che gli studiosi, gli addetti ai lavori, spesso parlano a se stessi. Fanno analisi sulla musica, danno spiegazioni, eccetera, eccetera, però poi, diciamo, alle persone che non hanno gli elementi, insomma, perché non hanno seguito quella strada, perseguirli, non capiscono niente, quindi non viene sperimenti. Dato che la musica è un linguaggio, come tutti quanti gli altri, che deve essere accessibile, deve arrivare a tutti, e in qualche modo deve modificare pure quello che è il nostro modo di pensare, la nostra vita, o il made or in pace, insomma, a seconda dei casi, l'esperimento è questo. Vorremmo sapere che cosa succede a voi. Noi metteremo dei brani, ascolteremo insieme, e non diremo niente, oppure poche cose. E desideriamo che voi, insomma, alla fine ci diciate, in qualche modo questa cosa mi ha trasmesso, questa sensazione, questa emozione, non dispaventate, perché alla fine, voglio dire, ci mettiamo niente quanti alla parola. No, non è un'interrogazione, anche perché il concetto pure di base è questo, che la musica, a differenza degli altri linguaggi, anche artistici, non ha una netta divisione, un netto confine tra la sfera soggettiva e quella oggettiva. Quindi la sfida è quella, non di creare questo, di demitare questi due ambiti, però in qualche modo di capire fino a che punto può arrivare quell'oggettiva, che sono i dati di fatto, perché la musica fondamentalmente, anche se nell'immaginario collettivo è qualcosa di subliminale, di trascendentale, che tocca soltanto la sfera emotiva e basta, la musica c'è anche una sfera cognitiva che è molto importante, anche perché ci insegna il dottore Avallone che la mente umana ha il lato cognitivo e quello emotivo che sono certamente legati, cioè le emozioni diventano pensieri, i pensieri diventano emozioni. Quindi c'è una parte nell'ascoltatore che riguarda quelle che sono le sue esperienze, quelle che sono le sue, la sua sensibilità, le sue emozioni, eccetera, eccetera, oppure il fatto che magari un determinato brano musicale sono legato pure a delle cose del passato, insomma dei corda, con piacere o con non spiacere, e che all'altro ci sono i dati di fatto, cioè in un brano musicale ci sono determinati strumenti, che fanno determinate cose, che hanno un determinato timbro, ci sono determinate frasi musicali e periodi musicali che hanno una loro sintassi come il linguaggio quello parlato, eccetera, eccetera. Però alla base di questo, che poi insomma sono cose che possono sembrare nodiose, però servono semplicemente adesso come cappello per capire qual è l'approccio che cercano di dare a questo incontro, vogliamo trovare a decodificare quelle che sono le vostre impressioni, quello che è, quello che mi succede ascoltando qualcosa, e vedere se riusciamo a trovarci oppure no. Io volevo dire, a quanto lui aveva detto, Gianmarietti, che abbiamo detto tutto il consiglio, che è una cosa naturale, che diciamo l'obiettivo è quello proprio di soffermarci sull'interazione tra gli elementi oggettivi, quindi timbro, volumi, pause, ritmo, melodia, e gli elementi soggettivi. E di farvi vedere poi con questo magari soprattutto alla fine come in realtà gli elementi sonori sono riconosciuti dal nostro cervello e quindi attivano delle aree cerebrali indipendentemente dal linguaggio e dalla mediazione cognitiva. Questo è fondamentale perché in qualche modo significa che la musica, poi vabbè questa è la cosa che vedremo alla fine, cioè noi abbiamo un cervello che è predisposto biologicamente a reagire agli stimoli musicali a differenza degli altri sonni, quindi questo ha un significato e probabilmente anche uno scopo da un punto di vista della nostra evoluzione. E questo è quello che cercheremo di fare stasera, cioè di spiegare perché un determinato passaggio musicale determina quell'effetto emotivo e perché poi c'è l'intervento della mediazione consapevole, quindi diciamo di aree più evolute del nostro cervello. Ok, poi volevo aggiungere una cosa che mi ha fatto riflettere. Se si prende qualsiasi dizionario, ancora oggi, e si va alla voce musica, più o meno c'è una descrizione di questo tipo, insieme di suoni consonanti strutturati che sono piacevoli all'unico. Questa cosa mi inquieta un poco, devo dire la verità, perché c'è musica che è consonante, che è piacevole, che ci fa stare bene, c'è musica che ci fa stare male, ma se noi consideriamo la musica semplicemente come un qualcosa di edonistico oppure appunto di piacevole, che ci deve far piacere, è come uno che fa la meditazione e dice che mi vado a rilassare, non ha capito niente della meditazione. Cioè la musica è un linguaggio che esprime e una rappresentazione della realtà o gli stati d'animo, eccetera, eccetera. La realtà e gli stati d'animo sono belli, sono brutti, sono piacevoli, sono spiacevoli. Quindi questa sera non ascolteremo soltanto cose belle che ci fanno stare bene. Però l'idea di base è che se io ascolto un brano che mi trasmette l'ansia e riesco a capire che cosa di quel brano mi trasmette ansia e in che maniera lo fa, io ho capito qualcosa di più dell'ansia. E quindi andiamo a sentire questo. Così ci sciogliamo un poco e l'umore va un po' così. E quindi ci sciogliamo 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 un po' così. ho individuato due momenti il primo momento è quello del riconoscimento quindi il primo momento cognitivo è una musica dell'epoca in cui ero giovincella quindi ovviamente il fatto di riconoscere una cosa ti mette subito in un filone di sicurezza sfera soggettiva esatto mi piaceva, mi piace e poi il senso del ritmo ripetitivo anche quello dà sicurezza sai benissimo qual è la sequenza successiva un po' perché lo conosci un po' perché il ritmo ti porta verso quella, diciamo così, quella usualità scadenzata e quindi questo è piacevole dipende dalla soggettività cioè dal gusto chiamiamolo gusto un po' di tipo emotivo questo volevo dire una cosa cioè in realtà quello che ha detto mimma, come mamma mimma, mimma è molto, cioè ha una spiegazione proprio neuroanatomica cioè nel senso che la regolarità di certi ritmi musicali determina una maggiore attivazione del sistema del piano non è che è proprio completamente regolare cioè è... no, la prevedibilità della... sì, sì, sì in questo senso sì, sì, sì in regolarità di certi ritmi è veramente opposta al piacere, al senso di euforia che il brano almeno che James Brown non potrebbe trasmettere ma poi... sì no, no, ma infatti a mente resta la bellica il signore lei è appassionato di musica, insomma lei è appassionato di musica, no? no non particolarmente la classica la classica, esattamente la signora pure ci conosciamo benissimo quindi, appunto cioè il problema qual è? culturale Miguelone lei io ho appertito insomma cioè mi sono soffermato sulle emozioni che mi dava sulle emozioni che trasmetteva cioè non tanto sulla canzone se a me piace in questo momento io ho appertito che la canzone mi trasmetteva attraverso il testo una grande spontanezza e leggerezza dal punto di vista delle emozioni proprio a quella spontanezza che i momenti si, si, si della canzone che tiene partita ovviamente se oggi fossi seccato annoiato o avessi un carattere differente probabilmente percebia una sensazione perché di quello che è sprontato e di quello che è un attimino leggero provocatore per essere anche ripetitivo anche nell'architettura musicale quindi questa è una grande spontanezza e leggerezza è un pezzo che ti dà proprio che vuole un pochettino essere sprontato anche nel testo nella musica Fiore? a me mi ha dato un gran senso di felicità e soprattutto la cosa più bella che mi ha messo a mio agio è un'attività del genere per ore e ore e si va fuori di testa completamente magari pure aiutandosi con qualcosa eccetera eccetera quindi però la cosa che mi interessava la riflessione che mi interessava è che il signore e la signora vengono da una cultura diversa cioè la cultura è quella della musica fondamentalmente europea della tradizione classica e c'è proprio un abisso in mezzo in che senso? nel senso che questa qua secondo voi la musica narrativa racconta qualcosa? no esprime esprime uno stato d'animo ma non racconta qualcosa perché non c'è uno sviluppo tematico cioè consideriamo che nella musica quella descrittiva quella che racconta ci sono dei temi che sono molto simili alle frasi del linguaggio parlato cioè c'è una successione di note che creano una sintassi creano delle frasi che poi insieme creano dei periodi allora se noi ascoltiamo Beethoven all'interno di un brano di dieci minuti ci sono venticinque temi diversi che si che fanno a cazzotti tra di loro quindi è chiaro che chi viene da quella cultura è nato con quella cultura e viene da quella cultura non ci riesce proprio ascoltare una cosa del genere ma è inconcepibile perché la prima cosa che viene da dire quando c'erano i dischi si diceva se hai cantato il disco che a puntino continua ad andare però poi in effetti se vogliamo capire quello un senso per provare un brano come questo è che ci vuole ci vuole trasmettere una sensazione una sensazione di euforia che è una sensazione di eccitazione anche sessuale perché poi fondamentalmente è quello ma anche anche di rabbia cioè è una gioia veramente rabbiosa a me fa pensare a un incontro di pugilato cioè noi prendiamo il basso la batteria la chitarra e la voce di jazz brano fanno a cazzotti tra di loro cioè proprio come si dice in gergo una ricetta proprio completamente e tant'è vero che non a caso nella cultura afroamericana i neri si sono emancipati con la musica e col pugilato la maggior parte dei musicisti di black music compreso James Brown Miles Davis insomma tanti altri facevano pugilato quindi questo diciamo questo è il senso vogliamo proseguire dimmi nell'ascolto si si infatti adesso facciamo una cosa sperando che non sia a noi troppo voglio dire che oltre alla dopamina magari c'è anche quella di adrenalina assolutamente si la dopamina faceva riferimento alla piacevolezza del suono cioè nel senso che avevo messo questa sede ma in realtà c'è anche in realtà la scaletta è diversa mi fa piacere che stiamo ci stiamo nel senso che ci sono due diversi sistemi neuronali quello per le diciamo per le consonanze cioè i suoni piacevoli e quello per le dissonanze cioè i suoni spiacevoli e le sonorità gradevoli attivano delle aree del sistema piacere della ricompensa e del del piacere appunto nella zona orbitofontale cioè questa zona esattamente dove avete scritto OFC e più giù i collegamenti col sistema col sistema limbico che è quello responsabile che gestisce in qualche modo le nostre emozioni quindi fondamentalmente quando noi avvertiamo non sono piacevole si liberano si libera questo neurotrasmettitore in questo in questo sistema qui che poi è lo stesso sistema che regola fondamentalmente la sensazione di piacere che deriva da certi comportamenti come l'assunzione di cibo l'assunzione di sostanze stupefacenti quindi il funzionamento è lo stesso tra l'altro la cosa particolare è che la musica è un elemento astratto fondamentalmente cioè è un elemento fisico quando diciamo è un spostamento d'aria però dal punto di vista della nostra rappresentazione mentale è un elemento astratto non è un elemento fisico come può essere una sostanza il cibo o anche una relazione affettiva da una persona e la cosa particolare che ho visto insomma negli studi che ho preso in esame è che l'attivazione emozionale come dicevo prima dipende soprattutto da due fattori il primo è quello che dicevo prima con Mima cioè certe variazioni di timbro di armonia e di volume quelle che si chiamano le appoggiature cioè dei tempi musicali con ritmi più lenti e pause che vuol dire cioè ci sono delle regolarità delle schematicità ricorrenti questo fa sì che la persona si senta più attivata dal punto di vista emotivo quindi gli piace di più no no scusami scusami volevo un attimo sottolineare questa cosa cioè le appoggiature sono proprio uno spostamento dell'accento cioè la musica chiaramente la cosa fondamentale della musica è il tempo cioè è la forma diciamo d'arte più soggetta al tempo in questo tempo ci sono c'è una scansione c'è un battere c'è un levare c'è un battere c'è un levare allora Sex Machine c'è questo l'appoggiatura che cosa fa l'appoggiatura sposta l'accento cioè sullevare che è questo si inserisce e pone l'accento che andrebbe su battere allora questa cosa ci manda fuori di testa questo non a tutti chiaramente però a chi ha diciamo questo tipo di sensibilità questo brano è pieno di questi spostamenti di accento quindi ecco perché uno dice non riesco a stare fermo che è impossibile però scusa mi piace no 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 mi fa piacere perché diciamo sono contento che abbiamo questa integrazione nel senso che lui riesce a spiegare i dati oggettivi di quello che io sto cercando di spiegare da un punto di vista neurofunzionale cioè io non avrei potuto spiegarlo bene e meglio di come abbiamo fatto lui perché lui ha la conoscenza che chiaramente io in quanto non musicista non musico non ho l'altro elemento che però secondo me è fondamentale sottolineare è che l'attivazione emozionale è maggiore nel momento in cui c'è una expressive performance cioè un'esecuzione musicale umana c'è stata una ricerca che ha confrontato l'esecuzione musicale umana con l'esecuzione musicale fatta da un computer il brano era lo stesso era un brano di Chopin e gli elementi musicali quindi timbri melodie armonie erano uguali identici ebbene con lo studio fatto con la risonanza magnetico funzionale si è visto che le persone che avevano ascoltato la performance del pianista erano diciamo le aree cerebrali erano più attive cioè avevano prodotto maggiori livelli di opamina questo che vuol dire vuol dire che fondamentalmente la musica è anche un fenomeno empatico cioè quando noi ascoltiamo un brano musicale empatizziamo risuoniamo in qualche modo con l'emozione che l'artista sta esprimendo è chiaro che poi c'è un intervento di diciamo di fattori soggettivi la mediazione cognitiva soggettiva il fatto che quel brano mi susciti dei ricordi e quindi probabilmente l'emozione secondaria rispetto a quella che esprime un artista può essere differente quindi c'è un fattore interindividuale che interviene però di prima cioè in partenza quello che determina una maggiore risposta nostra emotiva è il fatto che il brano è eseguito da un essere umano perché certe variazioni libri voglio fare una domanda chiedo scusa ma non interviene anche la capacità della nostra struttura celebrata ad adeguarsi al ritmo al cambiamento del ritmo matematico perché poi la scazione è una scazione matematica quindi entrare in empatia con il brano significa anche ad adeguarsi sì sì ma è chiaro ma lo dimostra quello che è successo cioè i due signori il signore e la signora non hanno la struttura un tipo di struttura per accogliere questo tipo di linguaggio allora per me per la maggior parte di noi insomma che è scontato dire ma cioè uno è malato di mente se non va fuori di testa a sentire sta roba perché è troppo è fichissima insomma ma scusa perché anche io come i due signori penso che c'è una differenza di età ho avuto più o meno le stesse sensazioni a me piacciono moltissimo le percussioni ci lavoro anche con le percussioni però questo tipo di musica probabilmente a noi per noi non è a fine con il nostro musico ma non sto parlando di trance non credo che il come dire la trance o la piacevolezza di andare come tu dici fuori di testa debba necessariamente essere provocata da questo pezzo magari a noi non piace se metti un'ansamble di percussioni che fa non so dei ritmi indiani o dei ritmi arabi potrebbe essere che troviamo delle emozioni ma infatti in questo io penso che poi c'è la componente diciamo strutturale cioè di come non solo culturale ma proprio personale cioè del gusto della persona del suo mondo del suo mondo emotivo e commenti la sua indole esattamente quindi questo c'è però sa di fatto che sicuramente ci sono Milano non lo sa molto meglio di me ci sono determinate cose che attivano determinate cose nel cervello poi c'è chi ha una zona del cervello che è più sviluppata rispetto ad altre quindi è più sensibile a qualcosa piuttosto che a altre o magari è insensibile a qualcosa volevo chiederti una cosa ma infatti ti ho detto che cosa è andato fuori dentro non l'ho capito molto bene cioè quando la musica viene ascoltata dal computer quando viene ascoltata dal vivo no 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 quando il brano è eseguito ah lo stesso brano lo stesso brano è eseguito per esempio dal vivo esatto dove c'è più maggior nell'esecuzione dal vivo ecco perché si spiega perché certe variazioni perché certe variazioni degli elementi musicali non ci sono solo dal pianismo cioè che una canzone si deve da vasco non si faccia da tv oppure da un ostale eccetera eccetera e poi si spiega che la gente va a vedere i concetti quindi questo ti spiega che le funzioni che si vive dal vivo vedrano altri fattori cioè poi le aggregazioni social beh sì certo perché non abbiamo proprio per riusci in considerazione ma per riusci sì 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 perché anche questo deriva da però io volevo dire cioè un attimo quello che stava dicendo la signorina del Rosso cioè nel senso che l'emozione che il fatto che a lei e a le altre persone ha stimolato un'emozione di noia probabilmente significa che c'è una maggiore mediazione cognitiva cioè nel senso che la corteccia quindi qualcosa di superiore rispetto a quello che stavo dicendo prima riconosce non serve un senso di appartenenza a questo punto culturale con quella cosa che sta ascoltando e quindi in qualche modo la trova noiosa distonica però da un punto di vista cioè siamo già su un piano di elaborazione più cosciente dello stimolo quello che stavo dicendo io è qualcosa che noi lo differenziamo per riconoscerlo è chiaro la nostra mente avviene a distanza di millisecondi però quello che dicevamo prima a proposito della percezione delle appoggiature è qualcosa di più immediato anche perché ci sono delle afferenze acustiche che arrivano direttamente alle aree del sistema libico che non sono mediate cognitivamente quindi è per questo che poi è chiaro il gusto cioè il gusto è necessariamente il fattore culturale si guarda il microfono come natural è diverso un conto è il piacere o no a me anche non piaceva il magari però di nuovo è diverso cioè la reazione fino a un punto di cosa così normalmente ti porta a muovervi poi un discorso diverso è il gusto o meno mi è piaciuto o non mi è piaciuto o mi vanno di là credo che si parlava di più ma quando tu dice dai testa credo che si riferisse nel senso ti devi muovere non ti devi piacere il tuo no ma sicuramente io penso senza avere diciamo le conoscenze quelle psicologiche e neurologiche come come dottora Valone penso che sicuramente c'è una forte inibizione per chi ha un certo tipo di cosa per chi non riceve diciamo questo senso viscerale perché questa è una musica viscerale proprio che prendiamo a me non è piaciuta però comunque importa il tuo c'è anche secondo me un fattore situazionale nel senso che siamo anche se le persone non si sono mai viste prima la maggior parte di loro quindi l'ascolto consapevole deve tener conto anche della situazione in cui avviene è fondamentalmente è chiaro se io stessi a casa magari sono lì mi mani a zompare sul divano perché questa gioia orgiastica che stimola James Brown cioè la situazione mi conoscenza di fare magari qualcuno di voi aveva un'espressione del voto in un modo però magari parteva il piede di la musica diciamo anche certi limiti può sostituire i farmaci o affiancarli affiancarli sicuramente sostituirli e non a livelli sicuramente perché abbassa comunque il germone dello stress bisogno anche il bisogno di sedazione nel senso che si è visto che le persone che ascoltano musica per un certo tempo al giorno soprattutto per dei genti ospedalieri hanno meno bisogno di farmaci sedativi per calmarsi per gestire anche gli antichiamatori meno bisogno di antichiamatori sì sì quindi sì ci sono delle interazioni con questi aspetti però pensate che si possa sostituire assolutamente sì quello sì sicuramente sicuramente questa è nella mia esperienza personale avere diciamo la ricezione anche cognitiva della musica che integra quella emotiva ha un effetto terapeutico enorme molto più di quello semplicemente immediato emotivo cioè la decodificazione del segnale che può essere giusto o sbagliato ma che comunque c'è che crea delle idee che crea dei concetti aiuta tantissimo cioè diventa molto più efficace molto più efficace perché allora io ascolto questo brano qua posso fare considerazioni positive e negative ma le faccio cioè argomento non è soltanto dire non mi piace mi annoio oppure bellissimo mi manda fuori di te ok ma perché cioè anzi no perché come in che modo allora io direi di andare avanti perché sennò qua vedo le mani alzate non mi spiaceva no 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 va bene sono considerazioni che comunque si possono fare comunque o dopo ok allora ci lasciamo lo spazio perché ci lasciamo lo spazio facciamo troppe viaggiere ci vediamo l'esperienza allora sentimi io pensavo una cosa visto che secondo me non ce la facciamo col tempo invece di ascoltare questo qua ce l'ascoltiamo questo certamente anche perché c'è la differenza allora questo è il numero 6 questo sicuramente lo conoscerete tutti è un film che avete visto secondo me quasi tutti se non tutti e ce lo spariamo c'è poco da ridere qua è questo è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno dice bello, a me piace questo brano, però non è che mi trasmette gioia oppure felicità. Grazie a tutti. Io ho avuto un aumento, seriamente, un aumento dei batti di carissia cibo. E come mai? No, vabbè, è collegato. Perché no, perché prima di tutto noto la stessa sequenza ritmata del piano, cioè c'è la scansione ritmata del passo, però alla fine c'è, almeno quello che è la mia impressione, c'è la conclusione, c'è la poteosi che non c'è. Esatto, però c'è anche un'altra cosa. C'è anche un'altra cosa. Vi arriva il fatto che comunque, sì, c'è uno stato d'animo ben definito, però c'è qualcosa pure che non si capisce, che sfugge. Uno dice, non lo so, c'è qualcosa, ma non riesco a capire. Non so se... Il che è ottimo per l'ansia. No, ma è chiaro. Questo elemento, cerchiamo di capire qual è. Volevo parlare un attimo. Sì. La differenza sostanziale tra i due, insieme nel tempo. Il primo è un quattro quarti marcato, scutato. Esattamente. Stato santo. Esattamente. Per il quale c'è un bel fendere che sta suonato da sotto. In tutti i passi dentro, pochi toni, quindi confuso volutamente. Esattamente. Esattamente. Il cantile del tempo, nel primo brano, per fare un'analogia con la quinta sinfonia, è da una correnare della chitarra, con tutti i toni acuti dentro. Sì, ma adesso, al di là di questo, non andiamo troppo nel tecnico. Il secondo, andiamo direttamente alla seconda parte. Il secondo, è molto sardellante con il tempo, in tempi zoppi, come si diceva una volta, che ti provocano uno stato di agitazione. Esattamente, a me, personalmente, che sono da 40 anni di agitazione, anche se l'ho sentito viene dentro. Esattamente, ma infatti quello... Ed è proprio il terreno di troppo a quel luogo che non accambi entrano. Sì. Sì. Vieno. Sì. Sì. Ma infatti, allora, gli elementi... Posso chiedere come l'avvertiva l'agitazione, quello che aveva detto, mi dà agitazione? Come se ne accoglie? Da cosa se ne accoglie? Come se ne accoglie? Come se ne accoglie? Come se ne accoglie? Eh sì, infatti, io ho 60, ma sarà privata l'80. Sì, ho un'accelerazione, si è battito per me. C'è un'accelerazione. E quella che è caduta, lo sentire anch'io. Invece, io volevo dire che a me ha provocato invece una tensione, nel senso di entrare in una sensazione di attesa che stia per capitare... E quindi, diciamo, una tensione di attesa. Sì. Però questa stessa cosa può essere vista, a seconda della personalità, in maniera diversa. Io che sono una personalità molto estubbrettrice, non ero assolutamente destabilizzato, un po' quasi cercavo di sapere il resto. E cosa succede dopo? Cosa succede dopo? Se si salva o no, insomma. Sì, cioè... No, non si salva, perché si è già salva. No, non so. E' il risultato che non vediamo. E' il risultato che non vediamo. Comunque, no, io volevo un attimo per velocizzare, perché sennò volevo comunque far ascoltare qualche altro brano. Allora, che cosa è che ci crea tutto questo? Ci sono una serie di elementi, cioè, identifichiamone tre o quattro. Allora, come diceva il signore lì, la cosa fondamentale, che non è una scansione regolare, quella di questo pezzo. Allora, è questo che ci fa sentire così. E dopo capiamo come, ce lo ascoltiamo. L'altra cosa è il primo tema, quello dell'organo, quello è praticamente un tema discendente, una scala minore. La scala minore, in genere, è una scala che crea, si può dire, per convenzione, un sentimento di tristezza, comunque un sentimento negativo. E quello ti fa praticamente tutti i gradi, quasi tutti i gradi di questa scala, in maniera collegati tra di loro, discendenti. In questo ritmo che però non si trova, perché una volta si trova, una volta no. Poi, questa cosa la fa inserendo un tempo ternario all'interno di un tempo binario, cioè la scansione è questa. All'interno di questa scansione ci sono tre note, cioè ci sono quattro note, sono uno, due, tre, e poi l'accento va sul levare che si sposta qua. Allora, di nuovo, quella cosa che abbiamo sentito prima in James Brown, cioè lo spostamento di accento che ci crea... Destabilizzazione. In quel caso lì di James Brown ci fa muovere. In questo caso qua ci crea tensione. Si. Ci crea tensione. E poi, in più, l'elemento organo a canne da chiesa, che comunque, chissà per quale motivo, fa paura. Cioè, noi ascoltiamo musica liturgica del periodo barocco, cose sublimi, però comunque c'è qualcosa di oppressione, cioè non lo so, nel suono del... Perché è così pieno, pieno di riverbero, come devo dire, ci dà la sensazione di qualcosa che è talmente più grande di noi che non riusciamo, siamo sovrastati da questa cosa che ci schiaccia. E quindi cerchiamo un attimo di capire il tempo di questo brano, di questo tema. Allora, consideriamo una stanzione la prima volta in sette e poi ce ne sono due in quattro, che noi adesso per facilità facciamo diventare otto. Basta che mi guardate. Questo lo lasciamo andare. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questo è quello che succede. In tutto il pezzo. Cioè, in tutta questa parte. Dopo si allinea di nuovo. Questo sono gli organo. E una via di mezzo tra un organo e un sembra lungherese. Quello che si suona così. Noi, non è che, non è che giustare l'opente. 2, 3, 4, 6, 7, 8. E questo è il pezzo. E questo è il pezzo. Grazie a tutti. Ok, saliamo alla fine perché ci serve per quello che è succeduto. Guarda che abbiamo cosa succede. Allora, al di là del film, sappiamo che sono tutti fregati, non si taglia nessuno. Se non vuole finisce bene, sarà l'assassore oppure finisce male? Finisce male. Finisce male? Sì. Sei d'accordo? No. Finisce bene? Potrebbe. Perfetto. L'assassino sì che finisce bene. No, no. Dipende dal punto di vista, è chiaro. No, no. C'è un rilassamento quindi. No, no. È un rilassamento. Praticamente quello che succede è una caratteristica poi della musica barocca, della Settecento. Che un brano fatto in minore, su una scala minore, alla fine finisce in maggiore. In crescente. E qua finisce in maggiore. Quindi è un controsenso perché uno dice, cioè questo è un film horror, è un anno di tutto maggiore, ha nascerto un buon patente, però alla fine c'è questo accordo maggiore, uno dice ma perché? L'ascesa. Allora? Eh? L'ascesa qua in grado. L'ascesa oppure, cioè, questo qua è il male che vince e del contenzio non vince. Cioè, non è una situazione. E il positivo è che comunque finisce. Esatto. Ah, bene. Mi sono liberato comunque della minaccia. Ma che fa? Comunque finisce. Ma anche se sono... Infatti, noi abbiamo fatto un po' di... E quindi a volte sentiamo il lancio largo. No, ma quello che... Giammaniera, no, quello che non dà un po' di... Pensando, non so, tutti quegli attacchi di panico, cioè adesso mandando a un vista psicologico, cioè quel ritro iniziale è quasi insostenibile, cioè è una cosa che cresce, cresce, e che se uno non sapesse, lo sa dopo, però se non lo ascolta, se lo ascolta prima volta, per lo scopere, che fino ad un certo punto si apre l'entrazione, quel ritro, quell'attesa, l'alario, quello che noi sappiamo, anche psicologica, è quella la cosa più pesante da sostenere, perché qualcosa che noi aspettiamo non arriva mai, come aspettando Codot, di Beckett, cioè qualcosa che non arriva mai, che è insostenibile. Ora, quello che succede dopo, comunque è un qualcosa che si è ripetendo, può essere anche estremamente negativo, però finalmente lo possiamo comprendere o affrontare, invece l'attesa spasmodica è come il romanzo, è uno scioglimento negativo, poi questo è uno scioglimento negativo, però almeno si apre, e la ricchezza del penso dell'organo, ci dà anche la possibilità di avere... No, 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 è una questione di tempo, perché l'ansia perché te la dà, all'inizio, come dici tu? Te la dà perché tu senti un martellamento di note che hanno lo stesso tempo, tutte quante, la stessa durata. Allora, in una scansione ritmica che una volta è pari, invece una volta è dispari, allora questa è l'ansia, perché uno dice ma che cazzo allora deve succedere, cioè succederà qualcosa. Ma quello che succede, per esempio, se dire, a volte vediamo nelle situazioni cliniche lo stato di Orlando di l'ipocondria, però c'è spesso, quando quando una persona che ha sempre quello di un martillo, di avere qualcosa, di potrà capitare qualcosa, poi ha un disturbo fisico reale, si acquieta, perché quella situazione reale, concreta, oggettivabile, analizzabile, pure se magari grave, però è qualcosa di oggettivo su cui si può agire, è proprio lo stato di allarme, l'attesa che può capitare qualcosa che poi fa malare e crea lo stress. Una volta raggiunta un'avventuale malattia, a quel punto dice, vabbè, ora mi curo, so cosa mi cuore. C'era una cosa che prima diceva Gianmaria, che se non è quella sensazione di schiacciamento, in realtà, mi dà il brano, in realtà poco compatibile con la credenza centrale dell'ansia, cioè che io non ho le risorse, quindi sono mancante di qualcosa per fronteggiare la minaccia. Questa è la condizione generale nell'ansia, questa è la condizione centrale. E quindi il fatto che la pressione del brano dà proprio questa sensazione di essere incalzata, in qualche modo aiutata anche dal film, però l'immagine che io avevo, l'immagine mentale, era quella di una persona che è questo coltello che la inseguiva. Quindi in qualche modo poi l'apertura segnale il fatto che la minaccia è finita, bene o male che sia, però la minaccia si è conclusa ed è quello che accadeva, come diceva Maurizio prima, nel caso per esempio del ipocondrio, quando viene a sapere che ha un disturbo reale, non ha più, cioè la preoccupazione è finita, adesso sarà un'altra reazione emotiva di cui puoi occuparsi, ma la minaccia in quel momento si è conclusa. Certo. E poi c'è già mentre l'assassino sarà contento, si è liberato, cioè avrà un sollievo, una soluzione. Questa è la mia interpretazione personale, non ha nessuna scientificità, cioè là è il male che parla, è il male che vince del contento. Allora, questo brano che noi andiamo ad ascoltare, con profondo rosso siamo al 1975, adesso torniamo la macchina del tempo al 1703, in Prussia, cerchiamo di capire un attimo che cosa può collegare diciamo i due brani, quello che abbiamo ascoltato e quello che ascolteremo in parte perché dura troppo. Grazie. 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 Allora, che che succede in questo dramma? Vai Fiore. A me inizialmente mi è dato, mi ha fatto uscire fuori tutte le sensazioni che avevo, no? Tutta la tristezza di cui io ho indimento e tutte queste cose qua. Poi nell'ultima parte è come se questa tristezza, questa rabbia, queste cose che ho dentro sono state affievolite Hai detto rabbia anche? Sì, perché inizialmente quella musica forte, non lo so tecnicamente come si diceva No, 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 non ci interessa tecnicamente Ho fatto uscire fuori questa sensazione Poi dopo come si me la pulava, cioè posso dire, c'è questa sensazione Quando poi si è calmata la musica, no, che andava sul finire Come si fosse sentito un senso di tranquillità, di tranquillità, cioè come si Invece ti ha portato su donazione, inizialmente Ti ha portato su donazione? Sì Aspita Qualche altro... Tristezza Tristezza? Sì Forse... Come se ne ha portato la musica? No, forse per i ricordi, cioè perché ho fatto dei ricordi passati, eccetera Cioè collegati a questo brano? Sì Ah, vabbè Vabbè, in questo senso È una questione, diciamo, personale Sì, nel senso della chiesa, come... C'è l'ascolto in chiesa, eccetera Ma è stato spiacevole poi? No, vabbè, l'ho accettata comunque Ho capito subito di che cosa si trattava, quindi... Sensazione che comunque può capitare, nel senso... Per me è stato, diciamo, un brano peraltro già conosciuto Che in genere mi comunica questa sensazione di accompagnarmi in un primitivo rimescolamento emotivo E poi però mi accompagna, diciamo, in un viaggio di introspezione Mi accompagna proprio è l'ideale per fare da sottofondo la colonna sonora di una discesa introspettiva Ma è una discesa introspettiva piacevole Molto piacere Non c'è un conflitto? No, no, anzi, diciamo, è proprio la cosa giusta per accompagnarmi Per tenerli in compagnia in questo impegno Però costruttivo, piacevole, utile Sì, Michele, hai alzato la mano? Sì Come diceva la dottoressa, grande conflitto emotivo all'inizio e poi viene anche liberazione dopo Eh, ma non siamo ancora arrivati alla fine Ancora non sappiamo che era fine Cioè, a rispetto della canzone di prima La canzone di prima ti crea ansia perché? Perché tu all'inizio segui l'organo, no? E credi di aver inquadrato quella che la traccia musicale della canzone Poi ti rendi conto che il basso, che è la parte armonica inizialmente Sta portando verso un'esplosione di passi E dici alla fine finirà male Quindi il basso prenderà il sopravvento Invece no, torna l'organo E quindi tu non riesci a percepire la traccia musicale Sono due canzoni che vanno nella direzione Cioè, traccia musicale, parti armoniche in relazione opposta Quindi dici, aspetta, adesso torna il basso Invece no, torna il motivo iniziale Senza basso Senza basso Ed è quello il motivo che prevale Quindi l'ansia termina e secondo me è una canzone di prima fila In un certo... Ma se non lo dè Michele Questa qui è un boomerang Perché questa canzone, anche dal punto di vista la traccia musicale parte Ricarica pienamente Torna indietro Potremmo che il sfrutto di tutto quello che vuoi fatto E si termina Dimmi una cosa Adesso becca a tutti Te lo chiedo a te Ma ci sono dei collegamenti col brano Che abbiamo sentito prima Un problema L'organo Ok Ma al di là dell'organo Cioè, quello che diciamo Ma è fatto che la tensione iniziale La tensione iniziale La tensione No, la tensione in andata in ritorno e in trionco Io la vedo come un altro sbattolo Cioè, come sposte l'ansia predomina Poi qualcosa che si agita che vorrebbe alleggeri Si deve fuori, non ci riesce E viene sovrassato da l'ansia Ma secondo voi Vi faccio una domanda Perché me lo sono chiesto E la risposta non la riesco a trovare Ma secondo voi Perché questo brano musicale Che è un brano liturgico È stato composto da Bach Si pensa Alcuni lo mettono in dubbio Ma è stato composto da Bach Per scopi liturgici È stato utilizzato in un sacco di film horror Degli anni 40-50 Con Dracula che suona all'organo Questo brano Che fa farma dell'opera pure Io non so se Questo è un reso Però ricorda comunque La idea della morte Comunque sia Non so se vorrebbe L'idea di una morte Però l'idea Di quelle musiche Che si suonano Proprio in questi In questi anni Se è stato Se è un canto Se è un In comune c'è una morte Questi due Questi due Questi due C'è una morte Quella è l'operazione Della morte Nel senso Nel senso Nel dara Questa qua È timida Sì sì Secondo me ha accolto Secondo me l'essenza del brano Questo si chiama Toccate fuga Allora La fuga che cos'è? È una tecnica Che si utilizzava Soprattutto in quell'epoca Buck l'ha elevata Proprio al massimo livello In cui invece che Creare delle linee melodiche Che la parte orizzontale Della musica Su quella verticale Quella dell'armonia Cioè gli accordi Erano una serie di linee melodiche Che si rincorrevano E lo facevano Per imitazione Spesso O esattamente Con le stesse note Oppure con la stessa Stazione ritmica Magari con uno sfasamento Di quinta Di terza Eccetera eccetera Questo che cosa Che cosa ci Ci trasmette Ci trasmette il fatto Che comunque Queste due frasi Si rincorrono Si lasciano Si riprendono In qualche modo E possono anche Andare in conflitto Possono anche Andare in conflitto Cioè non è detto Che succeda Però in un brano Come questo Questa è una mia Considerazione personale Ma poi lascia il tempo Che trova Io ci vedo Un conflitto Molto forte Perché noi Consideriamo E ci troviamo Nell'appena nata Prussia Del 1703 Con una prevalenza Della religione Protestante Luterana Quindi l'austerità La severità Di questa religione E quello Che io ci sento Qua dentro È La paura Cioè La fede E la venerazione Per un Dio Insomma Superiore Che muove tutto E c'era Ma dall'altra parte La paura Del peccato Di essere giudicato E la punizione Di quello Che ne dò Esatto 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 No ma non fai Perché mi farò No Che riesco Norispond Su Divunissime Troppo E messi E Ma Buongiorno La Perfezione Guolstico Vai Ti av wide Torano Senter 있다 Got La Speranza No Una Signore E Li ٌ E Grazie a tutti. 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 Un po' è una sensazione sottofondo. Mentre prima era un brano, ahimè, non è che lo senti ogni giorno, l'hai sentito per un periodo, 75, profondo rosso, ma poi è rimasto là. Invece questo è molto più grande, mi ha rilassato. No, non è un brano, ma è un brano, ma poi è un brano, ma poi è un brano, inizialmente come una confusione di sensazioni, tutte che si streggiano una, e poi come se ci fosse una disciplina, un incranamento, un vigore, come diceva, una ricerca fosse di disciplina. infatti quando come se ci sono se arrivasse finalmente alla composizione delle sensazioni in un'armonia io sento così scusate sono novizio a questo tipo di notizionale lo siamo anche noi è la prima volta che sono diciamo dalle sensazioni che partecipanti hanno espresso io avrei fatto una scelta differente perché voi avete scelto dei brani noti e molto legati a dei contesti tipo una famosa colonna di un film di D'Argento un brano risentite risentite la signora la rondeva dei ricordi magari a qualche funerale più di una volta io avrei scelto dei brani molto meno noti e molto meno inassociabili a sarebbe stato più difficile comunicare perché c'erano solo due spese le sensazioni sono spese dai i prossimi conti non è finita l'accordo tutte le analisi ma nel corso che faremo ci saranno cose che non conosce nessuno però il pezzo del film di D'Argento insomma porta questo orpello del fatto che è legato è un film horror e quindi magari uno insomma passa associazione e poi ho notato che sul primo brano molto spesso è ricorso il fatto del contesto del primo brano di Sex Machine intendo diciamo dell'influenza del contesto sulla percezione di un brano del caso di James Brown che a me era fatto la stessa relazione di Loro dunque a me non è un po' nessuno un bel cammino diciamo manco uno stimolo sessuale a scrivere quel brano meno male che se la fa è un aspetto fondamentale io avrei scelto dei pezzi non dei pezzi contestabili a degli eventi qual è un film qual è un funerale qual è che concetta da dire a parte che penso tutto possa essere contestualizzabile tutto è contestualizzabile credo che sia anche e poi in qualche modo quello che diceva è difficile che poi le cose non abbiano un significato hanno un significato soggettivo per ognuno di noi e noi ce lo rappresentiamo in qualche modo è vero il pezzo di Goblin è profondo rosso però il che non vuol dire che il pezzo di Sex Machine necessariamente sia legato a quel contesto cioè semplicemente può essere chi lo sentiva la prima volta comunque non vale per tutti i colori di Seren perché Sex non vale per tutti Sex Machine è contestuale per alcuni questo è contestuale per altri i Goblin e il profondo rosso sono contestuali per altri quindi è difficile trovare qualcosa di non contestualizzato anche se personalmente avete scelto dei brani molto meno il fatto è che essendo un esperimento pilota fondamentalmente quindi c'era anche bisogno di trovare qualcosa non è il fatto di essere psicologi o di non fare un'altra cosa cioè è semplicemente una convenienza la possibilità di condividere insieme delle cose è chiaro che se faccio dei brani più o meno noti più o meno noti perché penso che qualcuno che abbiamo scelto se ce n'era uno che non ho manco trovato su Youtube non credo che sia conosciuto però se faccio delle cose più o meno note è più facile che posso condividere però se quel brano non fosse stato associato al film di Dario Argento e l'avessimo ascoltato per la prima volta qui stasera allora avrebbe portato dell'informazione vera rispetto alle sensazioni ma questo è quello che abbiamo detto anche nel caso di sex di mani però è impossibile che non che non ci sia questo elemento però ci tengo a farla sulla scelta dei brani allora il primo brano non a caso visto che qui parliamo di un corso e di condivisione cioè di un fenomeno che è musicale e di condivisione che è un fenomeno anche scientifico anche sicuramente per le grandi labore scientifiche il primo brano è stato il brano di apertura penso dei 15 incontri di box che c'era qui al mondo anche Cassius Clay c'era James Brown che cantava questa canzone e quindi per me è stata la scelta di un pezzo geniale perché è un pezzo che è stato riconosciuto dall'umanità in un certo modo e noi dobbiamo comunque puntare alla condivisione il brano di Bach è una struttura che durante la riforma gregoriana era quasi un'operazione di marketing di divulgazione perché parlava di morte di morte cioè di vita tripolazione morte connessione castigo e i brani di questo tipo sono stati studiati per anni per centinaia di anni per strutturare per avvicinare il cristiano alla chiesa nella riforma gregoriana si stivano le partiture come oggi fanno le grandi multinazionali per questo motivo per cui per me anche la scelta di questo brano è geniale perché se questi brani sono brani che sono entrati nella storia dell'umanità è su questi brani che puoi aprire un corso nel quale puoi valutare le percezioni le sensazioni che condividi con gli altri altrimenti io resto in casa metto una canzone dei Joy Division a Nemo fa il satrista un altro con un corso un altro lo fa stare bene cioè sono brani secondo me io per la scelta dei brani però penso che si è creato si è creato cioè ci sono diverse tipologie di espressioni questo ci ha fatto sì che i tre brani siano stati scelti bene perché su questi brani abbiamo valore in grado dei poteri cioè è interessante sapere se mettiamo un brano che fondamentalmente non è conosciuto forse la reazione emotiva può essere più pura meno mediata culturalmente su questo non lo d'accordo è chiaro che essendo la prima volta non c'è non potevamo rischiare è la prima volta per voi ma è la prima volta per noi quindi stiamo facendo un estremetto poi la scelta di profondo russo è una scelta che emotivamente ti incontrisce quindi ti da se io questo diciamo che è la loro corso cioè una cosa pure psicologico io penso che è una condizione psicologicamente è una condizione quindi comunque escono fuori delle emozioni io penso che il senso di questo di questo di questo di questo forse fa riuscire fuori dalle emozioni sia la possibilità di fare una riflessione su quello che accade quando ascoltiamo un pezzo musical evidentemente siamo incappati in delle euristiche in questo l'euristica della disponibilità nel caso specifico che contestava questo signore al proposito ma è finita di un'altra andiamo con un'altra chiesa io ti volevo chiedere che cosa vogliamo dire perché questo punto coso lo dico lo eliminato perché io direi che abbiamo d'orsi ma non so dobbiamo fare una pausa se la facciamo ok ok allora c'è questo si chiama una relazione in atto per fare un po' semplice diciamo cosa è quando lo si chiama la c'è la c'è c'è la c'è tutta la c'è una cosa che sta più dalla parte che vuole mettere la dalla parte di vuole salvare dalla morte a te cioè il vuole salvare la facciamo l'anze la pensare da l'anze ok si chiama ieri la c'è la la c'è la c'è 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 la la c'è abbiamo scatenato l'inferno si è bloccato è la mano fatta esaurire non ti ho detto ma è ben più terribile tu c'hai io no va bene ma quando è bloccato grazie 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 Almost doing things we used to do There's a woman that she's almost doing Almost, almost things that you promised With your eyes, I see in those two Now your eyes are ready from crying Almost doing things we used to do The disaster became me It made me as a fool The one he ate to be Almost blue Almost touching it will almost do There's a part of me that's always true Always, almost things that you promised With your eyes, I see in those two Now your eyes are ready from crying Almost you Almost you Almost me Almost you The one he ate to be 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 Anche qua ne abbiamo ascoltate proprio una catella Una camionata Che dà un senso di tristezza Di malinconia Però Quello che non hanno Che c'ha la cultura europea Della musica europea Quella tradizionale Che non ha la musica afroamericana Anche se in questo caso è un bianco Che suona Che c'è che bacca E che non c'è quel pathos Quella drammaticità Quella... Cioè E' una tristezza molto più pacata Quasi tristezza E' tutto almost Tutto quasi E' introspezione E' introspettiva Non esplode Non c'è il pianto che esplode Il batte il silenzio Non c'è la realtà Per noi è ancora peggio E' ancora bravissimo Bravissimo Perché E' devastante E' devastante E' devastante Sottofondo va bene Perché l'anno non lo sento Poi il dottore ha messo pure Quella Bravissima Adesso non ci poteva una cosa Io ci avrei messo un'altra cosa Cioè Di stesso non scendevo con niente Un'emozione No Sto scherzando No Accentuava Cioè la cosa devastante Che tu stai Lì c'è accorto veramente Con una cumente Che non sfocia Bravo E' una condizione esistenziale Cioè non è quella situazione Che lui ti racconta qua Non ti sta raccontando Questa situazione è triste Però poi la vita E' una condizione E' una condizione esistenziale E' una condizione esistenziale Cioè chiaro E' fondamentale Se è vero che Lui parla di uno stato Di un modo d'essere americano Di questa musica Della musica americana Non è uno stato A differenza di quello europeo Che è uno stato momentaneo Che poi sfoga Si libera In qualche maniera Quello è uno stato depressivo Come probabilmente La cultura americana E' molto più votata A queste cose Di quelle europee Anche se l'europea La sta diciamo A raggiungere piano piano Cioè la diversione Dici Quello è un modo d'essere Cioè quello che Dicevi tu Questa è una musica Che racconta Una condizione Una condizione Una condizione naturale E' uno stato di pressione Che si avvicina allo stato di pressione E' uno stato di pressione E' una condizione naturale Cioè la tristezza E' un'emozione E quindi E' una condizione Cioè la depressione E' una condizione E' una condizione La tristezza si Ma la depressione no Assolutamente Quindi Poi è chiaro Poi c'è Subentra magari La conoscenza Della Sony Cioè Magari Sapere che Era una personalità Ecco Lui aveva probabilmente Una condizione esistenziale Da depresso Però Il profilo E' molto più devastante Sì Il resto sta molto meglio di lui Cioè Lui veniva comunque Da decenni Cioè Lui veniva da decenni Da quando era adolescente Di dipendenza dall'eroina Di cui non è riuscito mai a liberarsi Pensate che lui A 34 35 anni Già dovesse farsi la dentiera Perché aveva perso i denti Talmente che era macho E dopo un anno Qua siamo nel 1987 Dopo un anno Lui sarebbe Sarebbe morto così Precipitando Precipitando da un balcone Di Amsterdam Perché era strafatto E andò a sbattere a terra Quindi Cioè la sua storia Sì Cioè la sua storia Comunque In un brano che poi non è manco suo Perché questo è il biscostello E Capito? Sì Sì Però Dire completamente questo In questo brano Ma come quasi tutti quelli di Schepke Ma c'è proprio la sua vita Cioè il suo dramma La sua La stanza come il giorno Alla fine è uno storia Il suo sì Però Sì Quello che volevo Riprendendo il discorso delle consonanze E quindi del Perché certe musiche Cioè questa è una musica Siamo d'accordo di scrivere una musica triste Che induce tristezza O qualcuno Aveva voglia di ballare Chiedo scusa Dica Io desideravo proprio dire questa cosa Sì È una musica triste D'accordo L'abbiamo percepito tutti Però Naturalmente Ognuno poi vive Questa cosa Al secondo del proprio vissuto C'è proprio da fare Cioè della proprio Cioè non si può omologare La reazione Anche emotiva Di tutti Allora Credo che Diciamo Tutte queste cose Vanno a essere Una curva di Gauss Come tutte le cose Di questo mondo Insomma Che uno vuole fare con studio Per la maggior parte Per la maggior parte delle persone Sarà In modo Poi ci sono delle nicchie In più o in meno È triste Ma in questa musica In questa Diciamo In questa sensazione Di stato d'animo Di tristezza Personalmente Io Ma magari Solo io Ci sento Già La consapevolezza Di avere Tutte le risorse Per gestire Questa tristezza Cioè Per me È una musica Che dà la sensazione Di una dolce Rassegnazione Cioè Mi è capitata Ma è una tristezza rassegnata Sicuramente Mi è capitata Un'evenienza Una situazione Tale Per cui io Sono triste Me ne sono fatta una ragione Sono consapevole Di questa cosa La guardo in faccia Questa tristezza So perché È capitato E so anche Che io mi ci sto Crogiolando In questa tristezza Ma Vedo già Che ho la capacità Per farmene una ragione Quindi per venirne fuori Naturalmente Questa mia lettura È mia È mia Nel senso che Dipende dalla situazione È mia Che non necessariamente È quella di mia Però Quello che lei dice Che io sono concordissimo Perché quello che lei diceva In realtà Quando si legga qui Cioè lo scopo della tristezza Perché ogni emozione Ha uno scopo È proprio quello di Lei diceva Una rassegnazione Cioè di riconoscere E accettare la perdita Cioè quello che Per me è importante Il mio Il mio obiettivo Che può essere Non qualunque La salute L'amabilità Lo stile È perso E nel momento in cui Io lo accetto La reazione emotiva E la tristezza Però è chiaro Che comincio a Ammagazzinare Le risorse Per poi Prepararmi ad altro Questo anche dal punto di vista L'attivazione del sistema Del sistema nervoso autonomo Perché si attiva La parte parasimpatica Che è quella Che ci permette Invece di aumentare Le risorse Il fatto che Ci sia un aumento Del glicogeno Può dire che Aumenta la digestione Quindi vuol dire che Comunce a incamerare energia Magari si può fare anche allenamento In questo Certo Potrebbe essere Una cosa è sicura Se non c'era L'accettazione Di qualcosa Che è perso Non ci può essere Un passaggio Ci può essere Un passaggio Ci può essere Un passaggio Adesso abbiamo Adesso abbiamo Un problema Muove un po' qua Vedete che succede Cioè la forza Che succede Esatto Vabbè comunque Una cosa che abbiamo sottovalutato In questo caso Non negli altri brani Che abbiamo ascoltato È il testo C'è un testo C'è un testo Che aggiunge senso Alla musica O viceversa E quindi Andarselo un attimo a leggere Magari potrebbe essere interessante Anche se vabbè Alla fine Quello che è stato detto Che avete detto In qualche modo Coglie Quello che è Il significato Del brano Però comunque Questa situazione Che lui racconta Magari se ce lo possiamo Leggerlo un attimo La situazione Che Costello racconta Ma le cose che Bagger fa sua È una situazione Che fa parte Della sua maniera Di vivere Di come vanno le cose Le cose vanno così Le cose vanno quasi Le cose vanno almost E questo è E questo è Insomma Dici da leggere tutti Sì Sì Che cosa succede Che succede Che succede Grazie. 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 cos'è? quando metti la spina c'è la coluna che dava questo problema qui l'ho indicato come demoralizzazione però in realtà la malinconia è quella forma di diciamo di tristezza non forte in cui fondamentalmente come diceva prima la signora c'è l'accettazione però abbiamo ancora bisogno in qualche modo di ripensare a quello che è stato perduto quindi è una sorta di fase di passato e forse la malinconia la nostalgia in qualche modo sono anche tra virgolette piacevoli soprattutto se legate a noi ricordiamo che la nostalgia a volte anche cose piacevoli però non è che ci facciamo vincere dall'emozione che stiamo provando è fondamentale quello che c'è scritto una delle credenze attivanti nella tristezza è quella di essere impotenti e incapaci è chiaro che se c'è questo tipo di convinzione che non c'è nella malinconia cioè se io sono malinconico non mi sento impotente non mi sento incapace non mi sento in qualche modo accetto in qualche modo la vernia ma non c'è questa convinzione ecco perché appunto ma penso che tra l'altro il brano in qualche modo quello di Jack Baker ci da stimola le nostre consonanze e quindi quello che dicevo prima il fatto che comunque ci può dare una sensazione piacevole anche nel fatto che sia triste significa che in qualche modo c'è una schematicità che noi riconosciamo e che non ci invade non ci schiaccia poi fondamentalmente tra l'altro non so se è mai capitato proprio a un spero di sì vi assicuro quindi alla condizione di essere umani che voi non lo fare cioè di ascoltare pezzi tristi no no nel senso pezzi tristi quando siete tristi vi capita? cioè di ascoltare musica triste quando siete tristi ah sì e qui l'artista è ancora di più o vi capita in qualche modo di sentirvi di sentirvi consolati cioè vi capita? vi capita? sì cioè di ascoltare di ascoltare la musica triste e non disperati ma di sentirvi beh non dico bene ma comunque diciamo sollevati con un senso di di piacere sì ma per te poi c'è la musica ma scherza eh? no scherza piacere che anche un'altra che è triste non scherzi no no cioè il fatto di avere la consonanza cioè la consonanza con l'emozione che il testo che il testo esprime quindi probabilmente con lo stato emotivo cioè di empatizzare con l'emozione espressa dal testo empatizzare significa condividere condividere ci fa comunque stare meglio che essere che essere da soli e questo gioco di rappresentazioni più o meno automatiche è quello che in qualche modo poi determina una risposta emotiva perché altrimenti io c'è io non mi rispero di fronte all'ascolto di un di un di un di un certo di un certo bravo ma è come se in qualche modo mi accompagnasse quindi quindi si anche 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 questo quindi che non vuol dire che necessariamente ascoltare il pezzo di James Brown significa che poi devo sballarmi perché non è cioè non è tu e tu il punto perché io posso sentirmi tra virgolette è meglio rispetto a non stato emotivo ascoltando una musica molto triste come quella che magari mettiamo mettiamo dopo proprio per questo discorso c'è delle consonanze che stimolano il sistema il sistema dopaminergico quindi non è che ho il piacere se godessi del del cibo della portierina però poi la malinconia dà anche un senso un po' di dolcezza cioè una dolcezza una nostalgia una dolcezza cioè un tono un senso ecco dolce per immaginare una serata un posto oscuro un po' illuminato c'è qualche stanza di intimità quindi la malinconia dà anche un senso un senso di abbandono piacere la cosa non penso perché la personalità ci avrà un nome io la chiamo malinconica pubblicamente malinconica che si sente viva soltanto l'alletrizio non no sì 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 perché ogni emozione fa sentire ogni emozione fa sentire anche la malinconia invece nella depressione fredda c'è un'assenza di emozioni di quello che è terribile il gelo il gelo è più pesante di una tristezza o di una malinconia o di una rapida cioè tutte le emozioni comunque ci danno vitalità che sono dolorose l'assenza di emozioni invece ci fa il tramezzo è una distorsione l'emozione culturale quella di dire sono emozioni positive o emozioni negative cioè la valenza delle emozioni sono emozioni soprattutto quelle di le nostre sei emozioni innate è chiaro che c'è la variante patologica per ogni emozione non possiamo considerare una cosa innata la cosa bella che è musica esiste anche la rappresentazione della depressione che non è uno stato emotivo non è uno stato tanto c'è io volevo dire a parte che un brano a me sembra più nostalgico come lo penso una sensazione ma non è detto che ascoltare un brano che può essere nostalgico anche un pochino sia per forza male a volte ti permette di stare davanti a una calma che ti permette forse di stare presente a te stessa a quel modo di essere in quel momento e forse di superarlo è un conforto è un conforto ma anche ti fa stare meglio ti fa stare di fronte a te stessa senza paura senza riserve quasi come se ti preparassi poi ad essere diversa si no 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 credo che io ti prendo completamente senza troppo qui c'è questo senso di sicuramente parliamo di nostalgia di malinconia non certamente di disperazione di sconforto cioè di appunto dell'idea che non c'è più che non posso più farcela ma lo capiamo da una cosa fondamentalmente al di là delle componenti armoniche melodiche che sono abbastanza compresse dal fatto che il timbro di tutti gli strumenti è molto soffuso molto molto vattato anche il suono di tromba di jet bugger che poi lo caratterizza è un suono proprio vattato cioè se prendiamo altri trombettisti tipo di sigillessi maestro davis hanno un suono molto aggressivo e quindi è questo che ci dà il senso di una tristezza comunque pacata dignitosa dell'accettazione di uno stato esistenziale cioè questa situazione che lui racconta è una situazione che fa parte della sua visione della vita dice sì le cose vanno così anche la batteria la compagnia era quasi accarezzata penso con cos'era un spasso a differenza della batteria del basso è un'accarezzata è una musica che accarezza di una tristezza che ha fatto una tristezza una tristezza perché fantasticavo proprio su questa cosa quando sentivo quella tristezza cioè in un ambiente questa musica soft sembra come una donna in maniera da una tristezza di via così proprio c'è come sottofondo perché non lo vede proprio una cosa di tristezza ma lui la cosa ti può accompagnare in maniera pagata una relazione cioè è chiaro certo sì sì ma c'è anche la componente marincone se vuoi cioè nel nel avere una situazione di questo tipo cioè non ci sta tutto che riflette la tua realtà in buon nome è più io sì quindi potete andare via con gioiosi e incazzati gioiosi 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 e chiudiamo sì perché più o meno sì ogni brano ci stiamo soffermando un punto c'è un senso di programmi vogliamo fare una cosa io vorrei fare qualcosa di ostraggioso eh dai ascoltiamo due brani in sequenza l'ultimo vi farà andare bene non diciamo niente ce lo insolientiamo solo e basta ce li spariamo proprio allora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione! 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 Benvenuti! mi devi dare il scavo però una cosa che non si fa non è questo lo sappiamo che non è questo il ritmo basta tutto quando però come musica di contestazione di solito sono le parole che mi hanno sì sì no vabbè ma in questo caso qua il testo il ritmo ci sta per bocare sì sì ma comunque il testo cioè è una cosa fisica ma il testo fondamentalmente dice fanno pulo a tutto e accendiamo tutto quindi non è che c'è un concetto, un'idea di un case uno che è cazzato né no infuriato veramente e poi scassare tutte le persone perché lo vediamo carica scarica più chiaro no carica vabbè se lo ascolti carica se stai a casa c'è casa dove non vedi vabbè è chiaro è chiaro se no vai a bocare è chiaro è chiaro si a libito diciamo potete vincicare con qualcuno oppure si 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 va bene quella è una cosa è vero Carlo six è un discorso e c'è un che ci sono coincadute c'è un grosso programma è un felice